Il nostro concetto è questo secondo appuntamento di questa manifestazione di arte d'eccellenza di coreato della Cercusa di Padura e abbiamo questa sera con noi, noi siamo sfruttati il coro Poligna, abbiamo anche chiesto un po' di rinforzo, abbiamo fatto questa collaborazione con altri due cori, diciamo, che il coro è l'orchestra di teatrica Sella e Pizzeri e poi c'è una parte del coro di corabilità, quindi abbiamo fatto questo ensemble, siamo un corio di pizzeri, iniziamo il nostro concetto con Panis Angelicus e Gloria che seguiranno il coro di Caselle e il coro di Pizzeri e Pizzeri. Il maestro vige l'orchestra, il coro e il maestro Vincenzo Vittano. Vincenzo Vittano. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Siamo arrivati a conclusione del nostro concetto. Abbiamo tutti due trani, sono fatti da una messa, una messa breve, di Ango Medea, ed è stata fatta per un scherzo di Chiapher, e quindi vi faremo ascoltare la ruta e chi è entrato la ruta. Ma è il suo osso? Prego prima la ruta stessa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti per la vostra presenza, è bellissimo, semplicemente bellissimo venire nella cestosa, l'oro, queste voci, questi strumenti, qualcosa di emozionante, mi avete emozionato? Grazie, io posso dirvi grazie, veramente grazie, spero di poter fare insieme una nuova linea, a voi, 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 a voi. Grazie. 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 Grazie.